Nonostante il nodo dei precari sembra sia stato sciolto grazie agli emendamenti alla legge di stabilità che garantiranno la proroga dei lavoratori del Comune dell'Aquila e del Cradere fino al 2017, le polemiche dei mesi scorsi non sono del tutto andate in soffitta. Tra i lavoratori a casa da fine settembre infatti, oltre a quelli della ricostruzione e di altri settori dell'ente, vi sono anche quelli del sociale e le maestre degli esilinito del capoluogo, per le quali sembrava non esservi più speranza di rinnovo. Per questo il Comune aveva indetto un bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, utile per l'assunzione a tempo determinato di 14 educatori, per gli esilinito di gestione comunale. Un'idea che non è piaciuta ai sindacati, che hanno annunciato ricorso al Tar per bloccare il bando, una sorta di risposta a quei dirigenti che si erano apposti alle proroghe dei contratti, supportati anche da una parte della politica locale. Ci aspettiamo che una volta varata la legge di stabilità si possa finalmente procedere a quel rinnovo che noi ritenevamo si potesse fare anche precedentemente, ma credo a questo punto il testo della legge di stabilità non permetta più dubbi. Abbiamo in tal senso avuto rassicurazioni dalla parte politica, non abbiamo dubbi che questa cosa finalmente convinca anche la parte tecnica del Comune dell'Aquila che era stata reticente finora. Abbiamo avuto uno sconforto, però nello sconforto siamo stati anche determinati nel voler portare avanti questa cosa, ci siamo regolati anche con azioni legali che vedrete nelle prossime giorni, perché abbiamo ritenuto che il comportamento da parte di taluni dirigenti del Comune dell'Aquila non fosse ossequioso rispetto alla continuità anche dei servizi, per cui ritenevamo che il rinnovo e lo riteniamo ancora fosse l'unico strumento anche sulla base dei pareri che erano stati emessi che permetteva sostanzialmente da un lato sì sicuramente il ristoro ai dipendenti nel senso come continuità del lavoro, ma certamente la continuità in termini di servizi. Non dimentichiamo che due esili nido su tre, io insisto, su questo ancora oggi sono chiusi e rappresentano invece una tradizione molto positiva del Comune dell'Aquila.